Allora, immagino che voi l'abbia doppiato un bel po' di tempo fa, non sia troppo recente come evento. Beh, non tantissimo, no, un mesetto fa. Ok, voglio sapere da ognuno di voi se c'è una battuta che vi ricordate, che vi ricordate proprio perché magari è stata particolarmente difficile o particolarmente bella e intensa da fare. Beh, io sì. Vai. Ci sono delle battute che proprio non mi uscivano, però, e quindi ce ne sono tantissime, ma sai, ce n'è una perché non riuscivo a dirla in maniera così lenta, no? Ma dove siamo finiti? Per esempio questo, ma dove siamo finiti, che doveva durare tipo 4 secondi e mezzo, per me era impossibile farla durare così tanto. Dico, ma come fanno i doppiatori professionisti a far durare, ma come sono finiti 4 secondi e mezzo? E poi ce ne sono tante altre che non mi uscivano proprio e quindi le ho ripetute fino al, ma non so, al stordimento proprio di me. Aggiù, nel doppiaggio capita, si può sbagliare, per fortuna, e si rifà, capito? E quindi, insomma, poi il linguaggio del film di animazione è sempre un po' sopra le righe, quindi è molto più faticoso fisicamente fare, doppiare un film di animazione anziché un film normale, dove ci sono attori in carne rossa. E quindi c'è un po' di impegno in più, però è anche molto divertente, veramente. Poi quando la storia è bella, i disegni animati sono belli, la sceneggiatura è bella, è anche un po' più, no, facile no, però più divertente, cioè l'attore si può esprimere in maniera più completa. Voi vi ricordate altre battute vostre? Allora, io in realtà no, però sicuramente anche io ho sbagliato più volte, perché è normale, può capitare, addirittura una tradirettrice spesso e volentieri quando magari scivola un dice pettinicchio, perché non si è capito niente. Però sì, comunque è divertente, serve tanta carica e tanta energia per fare film del genere. Poi un film d'animazione Disney è un film d'animazione Disney, quindi è... Allora, un attore non diceva, esplorerei, ma era dopo pranzo, avevamo pure pevuto un bicchiere. Perché stava là giù, dove convergono le radici, se i raptici entrano lì, con questa qua io l'avrò detta 80 volte, che era là giù, dove convergono le radici, se i raptici entrano lì. L'avrò detta oppure. Però vedi, lo dice adesso. Adesso l'ho detto. A casa sono bravi tutti. Bravo, bravo. Quei due? Noi siamo intervenuti più sulla parte musicale, perché Disney insomma ci ha chiesto di comporre un brano originale ispirato al film e che poi si sedesse nel film, no? E quindi abbiamo cercato di mettere in musica la semplicità con cui il film racconta la complessità. In questo caso ci siamo ispirati ad un libro che si chiama Antifragile, che è stato scritto da questo autore libanese che ha teorizzato come l'antifragilità sia una caratteristica dei sistemi viventi di sapersi rompere, ma anche sempre rimarginare. E questa rottura e rimarginazione in questo film ritorna tantissime volte sul piano ecologico, in quanto il pianeta vive un trauma, ed è in cerca di una rimarginazione dove i protagonisti corrono al suo interno per salvarlo, un po' anche generazionale, perché comunque tra il padre e il figlio c'è questa rottura che alla fine si rimargina con il dialogo. Film Disney preferito? Pinocchio. Mazza, io vado io prima. Calma, non fa me ce la zà, eh. Gli ha visto gatti. Ah beh, bello. Ne faccia la pena aspettare. Per me è Inside Out. Io mi sa Mulan. Biancaneve, io vado di principese. Va bene, grazie mille. Ne aggiungo pure un altro io, perché io ho patito di macchine da corsa, che sono sempre stato pure Karts a me, ma veramente... Poi Saetta e Max. Ma lo so, Saetta McQueen e Max Manfredi, il nostro direttore che ringraziamo, ringrazio io personalmente, che insomma ci ha aiutato, mi ha aiutato parecchio. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie.